Si allena oggi l'US Agropoli in vista della gara di domenica con la frattese. Mancano otto giornate alla fine della stagione regolare prima dell'appendice playoff. Playoff la cui importanza è tutta da discutere. Non c'è la certezza, infatti pur vincendoli, che si verifichi il salto di categoria. Certo è che bisogna affrontarli nella migliore posizione possibile. In questo senso il secondo posto dà diritto a giocare direttamente la finale di girone attendendo gli spareggi della peggio classificata. Oggi l'Agropoli al solito effettua una seduta tecnica per provare le soluzioni antifrattese. Rientrano Siano e Clara che daranno più scelta a mister Rigoli su modulo e uomini da schierare. All'andata la frattese mise in difficoltà gli uomini del trainer siciliano giocando a ritmi altissimi, cosa che fuori casa gli riesce meno, ma la velocità dei suoi attaccanti è il pericolo numero uno. A questo punto del campionato i punti valgono doppio, specialmente contro una diretta concorrente. Vincere domenica oltre alla terza vittoria consecutiva consentirebbe di staccare in classifica la stessa frattese e non perdere contatto dal Torrecuso impegnato a Montalto contro una squadra in pratica già retrocessa. Frattese e Interreggio, che sarà la prossima trasferta, diranno di più sul futuro prossimo dei Delfini. Grazie a tutti.